Giù il velo, con Sandro Gozzi e Derrick Josef Intanto bisogna prendere i numeri che danno gli oppositori con molta cautela, si sta parlando di circa 5.000 morti finora, però è un numero che nessuno può certificare anche perché la Siria non ha permesso ai giornalisti di entrare. Quindi è successo anche durante la guerra civile in Libia quando si parlava di 50.000 morti, invece poi il numero si sta riducendo. Quindi per quanto riguarda i numeri, finché non ci sono giornalisti sul campo, io direi che bisogna prendere con molta cautela questi numeri. Ovviamente quello che sta accadendo in Siria è una insorrezione e ci sono adesso, si sta parlando di disertori nell'esercito e di gente che continua a scendere in piazza. Però c'è un però, ci sono anche tanti che continuano a appoggiare Bashar al-Assad, noi quello che abbiamo visto di manifestazioni, soprattutto i cristiani e tanti altri, che il regime è riuscito in qualche modo a convincere. Ludina, secondo te quali sono i legami che ci sono tra quello che è successo nei paesi del Maghrede e del Mashrek e quello che sta succedendo in Siria? Beh, intanto faccio un piccolo passo indietro. Il passo indietro è che questi paesi hanno dei legami, oltre che con Israele, hanno dei legami invece con l'Iran. Sono foraggiati dall'Arabia Saudita anche alcuni di questi paesi delle primavere arabe. Quindi l'Arabia Saudita paga gli insorti o paga cose varie. C'è, perlomeno io noto, che c'è molta più permeabilità, cioè intercollegamenti fra questi stati di quanto non si potesse immaginare in un certo senso. Perché, prendiamo la Libia, nelle forze armate libiche e nel mondo del lavoro della Libia, c'erano molti africani di altri paesi. In Siria, lì siamo sempre col problema dei sunniti e degli sciti, quindi altri paesi dove ci sono sunniti e sciti, maggioranza sunniti e sciti. E anche se vogliamo vedere l'Egitto, l'Egitto ha anche un collegamento col Medio Oriente, ovviamente è fortissimo, ha avuto un ruolo importante. Quindi qua, a parte le primavere arabe e il desiderio di democratizzazione dei paesi da parte dei cittadini, Ben Ali aveva fatto di tutto e di peggio, in Tunisia, correggimi se sbaglio, ma si era messo da parte un patrimonio, Bumarac lo stesso in Egitto. Cioè, questi dittatori hanno fatto il bello e il cattivo tempo, hanno messo in galera gli oppositori, hanno non permesso nessuna voce dissidente.